Sì! 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 Intanto volevo dirvi che porto questa maglietta proprio con orgoglio. Dietro ci sono i vostri nomi. Questo è il vostro argument. Intanto se magari ci siano due violette non sarebbe male, eh! Allora il pezzo che facciamo adesso è il titolo Simone Pianetti, no? È un personaggio è un personaggio un po' controverso. Insomma noi lo vogliamo di sicuro farne un eroe, però insomma la vediamo in un tempo un po' strano. questo potere un po' sembra che non gli si possa dire niente, insomma, no? Loro fanno e noi eseguiamo. Insomma, il significato di questa canzone e della storia di Simone Pianetti è quello di non tirare un po' troppo la corda, se non c'è bisogno perché magari la gente poi si incazza anche. Questo è Simone Pianetti! grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!